Il Consiglio regionale si è espresso a maggioranza con 24 voti favorevoli, 14 contrari e nessun astenuto. Approvata la legge di manutenzione regionale 2022, il provvedimento interviene per correggere 15 leggi regionali in vari ambiti ed è stato approvato a maggioranza con il voto contrario dell'opposizione. In Consiglio regionale è stato presentato un nuovo Consiglio di amministrazione di Fondazione Sistema Toscana con i presidenti Antonio Mazzeo e Eugenio Giani, strategie e obiettivi per promuovere l'economia creativa e l'identità culturale dei nostri territori. Il rendiconto generale per l'anno finanziario 2021 è stato illustrato in aula dal vicepresidente della Commissione regionale Controllo ed è stata approvata a maggioranza. Illustrando il rendiconto, il vicepresidente ha ricordato il prezioso contributo fornito dalla Corte dei Conti nel ruolo non solo di mero controllo ma anche di ausilio tecnico. Le previsioni definitive hanno determinato entrate ed uscite pare ad oltre 17 miliardi e 527 milioni di euro per effetto delle previsioni iniziali stimate in più di 15 miliardi e 404 milioni e di variazioni successive per più di 2 miliardi. Il rendiconto generale 2021 si è considerato anche rispetto al quadro, al contesto in cui l'esercizio finanziario si è svolto, con una pandemia che ha colpito duramente anche il nostro territorio, presenta conti che sono buoni, che sono accettabili, che anzi rispetto ad alcuni valori sono in netto miglioramento rispetto alle situazioni degli anni precedenti. Il risultato di esercizio, il risultato di amministrazione chiude con 346 milioni di positivo, c'è una tendenza anche al recupero delle vicende pregresse che sta continuando e che pone anche il bilancio della regione in terreno di sicurezza. Ci sono altre partite, quelle del costo del personale, degli investimenti che segnano valori di assoluta coerenza con quelle che sono le disposizioni normative. È importante certificare il rendiconto di gestione, è l'atto più importante di un Consiglio regionale che dimostra la salute finanziaria ed economica di una regione che lascia autonomia alla politica di definire le proprie programmazioni, raggiungere i propri obiettivi, quindi un atto fondamentale e credo che la verifica e il controllo che fa la Corte dei Conti sia un atto dovuto, una legge che consente un non dublice occhio fondamentalmente tecnico e politico e credo che il passaggio in Consiglio regionale dimostri quanto poi la solidità finanziaria della nostra regione ci mette nelle condizioni di presentarci in maniera strutturata e solida a una stagione quella di settembre dove servirà a assumere decisioni e responsabilità molto importanti per contrastare una crisi senza precedenti che sicuramente c'è nel nostro Paese. Siamo stati pochi giorni fa ad ascoltare proprio le parole della Corte dei Conti e per quanto riguarda il rendiconto abbiamo appunto sollevato tutte le stesse perplessità che abbiamo sul sistema delle partecipate, i costi della sanità, i derivati, la capacità di spesa che diciamo ci lasciano alquanto perplessi. Vero è che il disavanzo sostanziale sta calando ma al tempo stesso vediamo che sta peggiorando la situazione economico-finanziaria delle aziende sanitarie locali. Tutto questo ci lascia piuttosto preoccupati anche e soprattutto per il sistema delle partecipate. Noi vorremmo una razionalizzazione che vada in armonia con quanto stabilisce il decreto Madia ma in realtà non è così neppure per la regione toscana, anzi abbiamo ancora degli esempi di doppioni di partecipate e noi tutto questo dobbiamo evitarlo. In Commissione Controllo abbiamo esaminato come nostro dovere il rendiconto su cui si è espressa in maniera molto dura e molto netta la Corte dei Conti con il giudizio di parifica. Il disavanzo complessivo della regione nonostante i migliori resta il quinto in Italia oltre un miliardo e mezzo di disavanzo ma soprattutto c'è un rapporto non corretto fra la regione e le aziende sanitarie. In particolar modo la regione acquisisce mutui che dovrebbe rigirare il sistema sanitario in realtà trattiene i soldi costringendo le asle o anticipazioni di tesoreria o addirittura contrarre nuovi mutui che vuol dire aumentare i costi. In più è emerso con forza un problema di regolamentazione del personale dipendente degli organi politici dell'amministrazione regionale su cui dovremo porre rimedio peraltro con una legge ormai risalente nel tempo al 2009. In questo momento fare una valutazione su quelli che sono i conti della regione toscana è un'impresa che più ancora del Consiglio purtroppo ha riguardato la Corte dei Conti con le innumerevoli osservazioni che sono state mosse specialmente riguardo le criticità legate al comparto sanitario. Comparto sanitario che ha già sofferto duramente due anni e insieme ad esso tutti i cittadini che adesso si sono rivolti. E quindi credo che fondamentalmente il giudizio negativo non è espressione di una visione politica ma oggettivamente di un'azione che è stata portata avanti in maniera, come più volte abbiamo detto, disordinata e delle volte poco concreta e legata a interessi e questioni che poco avevano a vedere con gli interessi primari che invece la Giunta avrebbe dovuto tutelare. Approvata dal Consiglio regionale la legge di manutenzione regionale 2022. La proposta ha ricevuto il voto favorevole della maggioranza mentre l'opposizione ha votato contro. Questa legge di manutenzione interviene su 15 leggi regionali che toccano vari ambiti, tra cui le norme sulla bonifica dei rifiuti e dei siti inquinati, sul servizio sanitario regionale, il testo unico del personale, la legge urbanistica e il codice del commercio. Il Consiglio regionale come ogni anno ha votato la sua legge di manutenzione dell'ordinamento regionale, un'occasione per fare ordine nella vasta quantità di produzioni normative del Consiglio regionale della Toscana che ha sancito tutta una serie di interventi all'incirca per quasi 70 articoli che sono andati a risistemare molte delle disposizioni presenti nel nostro ordinamento. La proposta di legge che è stata presentata in Consiglio regionale è il frutto di un'intensa attività della prima commissione del Consiglio che tenendo conto di tutti i rilievi formulati e anche dei pareri espressi dalle altre commissioni ha deciso di espungere tutti quegli elementi che all'interno di questa legge presentavano carattere innovativo e non meramente manutentivo per preservare il contenuto della legge a quelle che sono le prescrizioni che discendono dalla legge istitutiva appunto della legge di manutenzione. Un atto dovuto che il Consiglio regionale approva a metà della propria annualità è la norma che ci consente di integrare iniziative che sono previste a livello nazionale con quelle che sono previste a livello regionale. Avendo due livelli di legislazione molte volte capita che nello sviluppare delle leggi servono dei correttivi e in questo caso sono serviti soprattutto per migliorare alcuni aspetti legislativi che torneranno utili alla regione toscana a partire da settembre quando nella ripresa ci sarà da dare delle risposte importanti soprattutto sul caro bolletto e sull'inflazione e soprattutto sulla svolta di carattere energetico. Consideriamo innanzitutto che siamo stati per circa un mese a trattare di questo argomento in commissione e non si è mai visto chi ha la delega al bilancio e gli affari istituzionali e Gianni non l'abbiamo assolutamente visto in commissione. Non solo presenta una serie di emendamenti quando comincia il consiglio regionale, peraltro a uno di questi emendamenti non è presente neanche lui che è l'unico sottoscrittore e quindi inevitabilmente l'emendamento dei cadi. Noi siamo stati a verificare puntualmente il contenuto della proposta di legge di manutenzione, proprio perché riteniamo un appuntamento importante dell'anno e abbiamo espresso tutte le nostre perplessità per quanto riguarda la parte sanitaria ma anche per quanto riguarda VAS, via, i procedimenti che si riducono dei tempi quando il personale invece resta sempre lo stesso e ha delle conseguenze tutto questo anche sui procedimenti partecipativi. Su una legge di manutenzione che per chi non è un addetto ai lavori è una legge normalissima in cui si va soltanto ad adeguare la normativa regionale alle normative nazionali ed europee che nel frattempo sono cambiate, il Partito Democratico è riuscito ad andare sotto nei numeri nove volte. Cioè nove volte gli articoli sono saltati perché i consiglieri del Partito Democratico non erano in aula non perché chissà cosa, perché non erano in aula. Otto volte, sette volte in commissione, due volte in consiglio regionale tra cui una volta l'assente era il presidente Gianni che aveva presentato emendamenti e poi non è venuto a presentare in aula e quindi viviamo in questo caos. Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Fondazione Sistema Toscana è stato presentato nella Sala Gonfalone di Palazzo del Pegaso dai presidenti di Assemblea Legislativa e Giunta. Nel corso dell'incontro sono stati illustrati strategie e obiettivi per promuovere l'economia creativa e l'identità culturale dei nostri territori. In particolare il presidente del Consiglio regionale della Toscana ha ribadito come fondazione sia asset importante ma anche partner strategico nel processo di digitalizzazione dell'Assemblea Legislativa e tra le tante collaborazioni già attive ha ricordato il portale della comunicazione istituzionale in consiglio.it e il media center intitolato a David Sassoli. È una fondazione che a mio giudizio deve costituire il perno dell'identità della Toscana. Tutto ciò che significa valorizzare l'identità della Toscana da un punto di vista sociale, da un punto di vista storico, culturale, di relazioni, di promozione turistica. Passa attraverso una fondazione che utilizza le più innovative, moderne tecnologie per questo tipo di messaggio. Ecco quindi che il prossimo Consiglio d'amministrazione guidato all'insegna della comunità, della continuità da Jacopo Di Passio dovrà cercare di approfondire un po' tutte le caratteristiche perché i messaggi, gli input che noi potremo dare come governo della regione possano tradursi nell'utilizzo delle tecnologie, delle capacità di relazioni, dei contenuti che diano il senso di questa regione che è l'unica che a livello internazionale ha anche un nome inglese, Toscani. Non ce l'hanno le altre regioni italiane salvo le due isole proprio per conformazione geografica, che possa valorizzare quelli che sono i tratti per cui è così attrattiva la nostra regione, che possa veicolare un messaggio di toscanità e anche se vogliamo in modo, lo dico abbattuta, ma con il senso giusto di ironia che Curse Malaparte definiva dei maledetti toscani. Per noi è davvero importante, importante per la Giunta, importante per il Consiglio e il lavoro che sta portando avanti Fondazione Sistema Toscana. Consentitemi di ringraziare chi in questi anni ha dato il proprio contributo di fare un grande in bocca al lupo al Presidente Di Passio, al Vicepresidente Colicelli e a tutti i membri del CDA. Il lavoro di Fondazione Sistema Toscana è importante da un lato per rappresentare, raccontare la nostra identità e dall'altro per noi, per il Consiglio regionale con cui è nata dallo scorso anno una collaborazione importante è stata fondamentale per realizzare quel processo di digitalizzazione che abbiamo voluto mettere in atto, per fare di questo luogo la Casa delle Toscane e dei Toscani un luogo accessibile in cui ognuno può accedere a tutte le informazioni per creare trasparenza. Se oggi siamo in questa splendida sala dedicata a David Sassoli lo dobbiamo al lavoro di Fondazione Sistema Toscana oltre degli uffici del Consiglio regionale e poi tante le iniziative fatte insieme dai 700 anni di Dante Alighieri alle feste della Toscana, alla festa dell'Europa, insomma una collaborazione tesa a sviluppare le iniziative del Consiglio regionale e far conoscere al meglio le qualità che il nostro territorio propone, insomma un ruolo importante che deve essere ancora di più valorizzato. Accogliamo un'eredità che è un fattore ormai consolidato nelle politiche regionali, la fondazione è il depositario, il braccio operativo, lo snodo che riesce a portare a terra numerosi aspetti e elementi delle politiche regionali e della programmazione regionale nel settore latamente inteso della cultura, poi viene declinato in numerosissimi affluenti. È un compito che ci deriva dal nostro essere fondazione che opera in regime di house providing che è un tecnicismo per dire che la nostra relazione con la regione, con tutta la regione è una relazione bidirezionale, c'è un rapporto e un affinamento tecnico, organizzativo, gestionale particolarmente strutturato. Di questo ovviamente il Consiglio di amministrazione è particolarmente orgoglioso ma al tempo stesso onerato perché si tratta di recepire e riprodurre indirizzi che stanno fuori dalla dimensione operativa della fondazione e che sono poi calati nella nostra fase operativa, attuativa e annualmente vengono sottoposti a scrematura, a vaglio, non è un intervento, una tantum che poi si traduce in interventi minuti ma c'è un raccordo costante, continuo con tutta la regione toscana, con la giunta in particolare ma anche con il Consiglio regionale che vuol dire tradurre in politiche attive sul territorio, tutta la dimensione dell'economia creativa, ecco potremmo chiamarla così, che in Toscana ha una sede di elezione per ragioni storiche, culturali appunto, ma anche di scommessa, di investimento che su questi temi è stato fatto e noi ne siamo in qualche misura la testimonianza attiva. Grazie a tutti! Grazie a tutti!